La nuova linea T2 della tramvia a Firenze porterà a 17 km della rete tramviaria fiorentina con 40 fermate e una riduzione stimata di 12.000 tonnellate di CO2 nell'aria. L'opera, in funzione dall'11 febbraio tra Piazza dell'Unità Italiana e l'aeroporto Vespucci, è stata presentata dal presidente della regione toscana Enrico Rossi e dal sindaco di Firenze Dario Nardella, con gli assessori regionale e comunale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli e Stefano Giorgetti. La regione ha destinato alla tramvia 70 milioni di euro, 50 dei quali nell'ambito del programma comunitario PORCREO-FESR, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, 20 i milioni di contributi regionali sui 600 di costo complessivo. Siamo arrivati ad un passaggio decisivo, sono 17 chilometri, gli effetti sono straordinari dal punto di vista dell'alleggerimento dell'impatto ambientale, dal punto di vista della mobilità, ma anche di quartieri interi che rinascono grazie alla tramvia. Continueremo, oltre a questi 75 milioni che abbiamo messo, ne metteremo altri 80 per fare fino a Bagnarripoli, per arrivare fino a Bagnarripoli e questo sarà il colpo definitivo prima della conclusione del mio mandato. Un'opera che, ha detto Rossi, rientra nella politica di coesione europea e che senza l'Europa sarebbe stata difficile da realizzare. Ora la regione porterà da 9,5 a 12 milioni di euro il finanziamento annuale destinato al funzionamento dell'intero sistema tramviario, la cui estensione è un obiettivo prioritario del piano regionale integrato, infrastrutture e mobilità. Questa linea è molto importante in quanto collega l'aeroporto con il centro, ma attraversa un quartiere densamente popolato con molte funzioni, il Palazzo di Giustizia, la regione, l'università, molte scuole e dunque sarà un servizio pubblico che fin dai primi giorni riteniamo avrà un grande successo. Tra gli obiettivi futuri ci sono l'estensione della linea 2 della tramvia fino a Sesto Fiorentino, la realizzazione della linea 3.2 fino a Bagnarripoli e della linea 4 dalla Leopolda alle piagge, con estensione fino a Campi Bisenzio. Grazie.